Quanti anni hai fatto? Quando andai, neanche, avevo 11 anni quando andai dal cassolaio, 11 anni, e parto con questi due sportoni attaccati alla bicicletta che me la dava poi perché la bicicletta a casa mia non c'era, me la dava il padrone del negozio e parto e vengo su alla statale. Quando sono lì di fronte a questo palazzo, anzi attaccato a questo palazzo, c'era anche un certo Ghetti che era stato Podestà di Argenta, hai capito? Sulla strada c'è un camion circondato, tutto un muco, tra SS, tra Brigato Anersimo, c'era un folto di gente, ma non erano ancora stati portati. Però quando sono lì a 30-40 metri, vengono fuori con queste 10 persone e li buttavano sul camion, capito? E loro facevano, io ne conoscevo nessuno di quelli lì, però loro facevano degli urli di andare a casa sua a dirgli che li portavano a ammazzare. Chi conosceva quella gente lì, poveretto. Però io sono stato fermo pochissimo perché mi hanno mandato via, perché ero fermo lì, però non davo l'età che avessi, ero un bambino a loro. E loro ho dovuto andare là, e l'ho raccontato anche quando sono stato in stazione, il fatto. E di lì, dopo la guerra, come sono stati ammazzati queste 10 persone. E lì. E dove sono stati ammazzati? Beh, adesso il racconto che mi hanno fatto, che ho saputo, è che cinque sul Ponte Bastille, e c'era uno che ha visto che c'era un tedesco che era un metro e trenta di altezza, ci andava con la pistola e gli sparava nella tempia, fra i quali uno non è morto subito, è andato là e ci ha dato l'altro colpo. E gli altri cinque li hanno portati a filo. Grazie. 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 Grazie.